Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Memorie 128 MB Dramding. Compatibile con, Cisco 2691 Router. Cisco PNM e M2691-128D. Vi preghiamo di inviarci se non siete sicuri circa, la compatibilità. Errati articoli ordinati per la restituzione verrà addebitata una tassa di 10 euro, amministrazione ripopolamento. Dimensione Capacit, 128 MB. Tensione consumo potenza, 3.3 Volt. Cas latenza, NA. Velocità, NA. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.